Dopo 29 puntate, Traguardo Lavoro ha chiuso la stagione. Il programma di Rete 8, realizzato in sinergia con il quotidiano Il Centro, dove si incrociano domande e offerte di lavoro con ospiti, interviste e videocurriculum, ha tirato giù il sipario, ma non prima di aver annunciato una sorpresa ben augurante. I conduttori Andrea Mori e Mila Cantagallo hanno infatti dato nel corso dell'ultima puntata una notizia che può rappresentare un'opportunità di sbocco per tutti gli artigiani che nella stagione hanno avuto visibilità a Traguardo Lavoro e alla quale chiedevano, anche grazie alla collaborazione con Rete 8 Mattinè, un aiuto per cercare opportunità. Ebbene, la loro richiesta è stata raccolta da qualcuno che si è reso disponibile a offrire quello spazio che chiedevano. Questo qualcuno è Gisella Tomassetti Bianco, di Spazio Bianco di Pescare, imprenditrice con la passione per l'arte. La sua galleria d'arte è il luogo di eventi artistici, culturali e musicali, commerciali, sotto i portici di Piazza Salotto. L'idea di Gisella Bianco è di dare spazio agli artigiani di Traguardo Lavoro e la possibilità di esporre i prodotti e quindi venderli proprio nella raffinata location di Piazza Salotto. Siamo con la titolare, Gisella Bianco, buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie, grazie per averci ospitati e grazie per questo grande regalo che ci fa ospitando questa mostra. Non è che molti sono incapaci di capire dove andare, come fare. A volte uno ha un'idea, voglia, vuole fare, ha l'ingegno, però dopo rimane lì, rimane nel cassetto. A me sembra molto carino che possano essere anche visti, che possiamo poi naturalmente non promettiamo più di tanto, ma è quello che per adesso possiamo fare. Grazie, noi le siamo già tanto grati come se la immagina la mostra dei nostri inserzionisti qui allo Spazio Bianco. Io pensavo in realtà di fare un'isola grande al centro, visto che questo si presta come vede. Allora prenderei un po' di tavoli, mettiamo le targhette, cercheremo anche di pubblicizzarli, li faremo conoscere, facciamo il possibile perché mi piace, è bello, la trovo una cosa bella, una cosa giusta. Quali potrebbero essere i tempi di questa mostra? In linea di massima facciamo anche sette giorni, poi vedremo, vedremo loro quanto si vogliono impegnare, come riusciamo. Intanto sette giorni io li voglio garantire. Entro l'estate si farà tutto? Penso proprio di sì, ci riusciremo senz'altro perché avremo altre mostre ma avendo l'idea di metterli tutti al centro possiamo sicuramente farlo. Io e i miei burattini saremo presenti con molto piacere. Sono lieta di partecipare all'iniziativa della Galleria Spazio Bianco di Pescara, occasione nella quale potrò promuovere le mie creazioni realizzate esclusivamente a mano. Sono l'artigiano che crea queste composizioni chiamate Green Lamp e volevo ringraziare Spazio Bianco per l'opportunità che ci dà di mettere in mostra le nostre creazioni. Grazie Andrea Mori, grazie Mila, vi salutiamo e vi auguriamo una buona estate. Arrivederci. Grazie a tutti.